Un saluto a tutti. Il Papa in una sua omelia per il giorno delle ceneri dice così. Il Signore trasmette per bocca del profeta un messaggio breve e accorato. Ritornate a me. Ritornare. Se dobbiamo ritornare vuol dire che siamo andati altrove. La quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta. Capita a tutti di perdere di vista la meta. Capita a tutti di non essere più capaci di ritrovarsi. Ecco, la quaresima è il tempo per ricentrare il nostro cuore, per ritrovare se stessi. Tante volte lo diciamo, devo ritrovare me stesso, ma non abbiamo mai la pazienza, a volte il tempo, di fermarci, di dire ma io dove sto andando? Quale direzione ha preso la mia vita? Da che cosa debbo ripartire? Ecco, chiediamocelo. Questi giorni particolari ci stanno dicendo che non siamo eterni, che non siamo immortali, che non siamo immuni. Questi giorni ci stanno dicendo che anche noi dobbiamo vivere nella consapevolezza che ogni giorno è prezioso, che la nostra vita non va trattenuta ma donata, perché il bene che facciamo non ci ritorna più indietro, ma rimane come segno prezioso per tutti noi. Ecco, questa consapevolezza ci aiuti a ritornare al Signore, a riprendere in maniera celere la via verso di lui nella certezza della Pasqua. Ci aiuti il crocifisso nero. Un saluto e arrivederci a domani.